Hanno tradizioni comuni, rapporti di grande amicizia e nel corso di questo rapporto di collaborazione sono stati raggiunti importanti risultati che sono stati apprezzati dalla parte italiana che nella parità delle parti ha potuto anche acquisire grandi elementi di conoscenza. Algeria e Italia fanno parte della stessa comunità del Mediterraneo. Hanno costituzioni diverse ma con molti punti di contatto. L'Italia apprezza moltissimo le posizioni dell'Algeria per quanto riguarda la tutela dei diritti sociali, la tutela dei diritti dei più giovani. L'Italia apprezzata la stessa comunità del Mediterraneo in molti punti di contatto. Per quanto riguarda la stessa comunità dell'Algeria per quanto riguarda la stessa comunità. Grazie.